l'ecco fm buongiorno siamo qui oggi con milio mille miglia nome d'arte di simone miglio di betta è tutto corretto no perché già è lungo il nome il nome su tik tok quasi 500 mila follower su tik tok e sei partito dal friuli dove abiti per andare a finisterre a piedi e il secondo viaggio lunghissimo che fai dopo l'anno scorso quando hai girato l'italia in bici è tutto corretto finora tutto corretto perfetto no ti seguo per cui per cui lo so e ecco e finalmente sei arrivato anche qui all'ecco tappa che non hai fatto in bici ma adesso la stai facendo a piedi intanto brevemente come mai questo viaggio è più o meno che come è nata l'idea che punti toccherai allora l'idea in realtà è nata perché è da un po di tempo che seguo dei segnali che percepisco e quindi ho avuto l'istinto di dover fare questo viaggio e poi determinati segnali nell'arco dei giorni delle settimane mi hanno confermato che era quello che effettivamente dovevo fare e qual era l'altra domanda che tappe farò in questi giorni che tappe farai sì adesso penso che proseguirò in direzione di como e dopo di che andrò in direzione di biella borgo manero ivrea poi scenderò verso torino e poi penso di fare la valchisona verso la francia che attraverserò vicino ai pirenei per poi arrivare sull'altro lato e iniziare il cammino di santiago non sono sicuro se fare quello classico o quello del nord che è un po più selvaggio più sconosciuto poi deciderai immagino l'importante è arrivare a finistere più o meno durata del viaggio penso fino a ottobre circa ok beh insomma è impegnativo poi tutto a piedi per cui è davvero impegnativo da ieri sei arrivato a colico giusto cosa ti è piaciuto di più della riva lecchese domanda difficile allora ho percorso il sentiero del viandante che è molto bello tanti scalini e penso che mi siano piaciuto molto il lago ovviamente è bellissimo però è scontato diciamo che ci sono tanti tanti borghi piccoli e caratteristici veramente carini ottimo dai oggi vedrai anche un pezzo di lecco immagine poi proseguirai verso l'abrianza giusto esatto grazie mille quindi e buon viaggio davvero grazie mille miglio miglio è stato un piacere grazie mille amore